ciao a tutti anime bentornati qui su quinta dimensione letture allora anime vi rinnovo ovviamente l'affetto ma lo sapete già ed in cambio tantissimo il vostro vi ringrazio veramente tantissimo per le vostre dimostrazioni le vostre parole e di seguirmi grazie appunto vi vi invito a iscrivervi al canale attivare la campanellina chi ancora non l'avesse fatto cliccare su tutte per ricevere poi tutte le notifiche di questo canale allora è ora di ricontrollare un po' la situazione lavorativa e anche economica tutte e due facciamo va bene lavorativa economica facciamo due stese oggi ne devi scegliere una magari l'altra l'ascolti così se per curiosità ma una deve essere la tua e metto due numeri due numeri fortunati da giocare poi il tipo di gioco lo vedi tu mi raccomando sempre con moderazione facciamo un paio di numeri per la stesa 1 e un altro paio di numeri per la stesa 2 allora sui numeri visto i precedenti video devo ricordare una cosa visto che sono usciti diciamo tutti i numeri di tutte le stese mi sembra solo uno non era uscito comunque magari uno dice ho scelto la prima però ho visto sono usciti anche gli altri quindi fate così al di là della scelta che voi farete oggi quindi la numero 1 o la numero 2 di lettura se volete mentre ascoltate la stesa che non avete scelto volendo quei numeri là potreste anche giocarli lo stesso visto che a volte sono usciti prima quelli di uno prima quelli di un altro però alla fine sono usciti si può dire tutti quindi fate voi solo per i numeri però per la previsione sul lavoro energie soldi eccetera sceglietene una proprio che vostra per i numeri da giocare ascoltate magari anche l'altra stesa prendete anche quelli eventualmente ma solo per il discorso del gioco è come previsione vostra rimane quella che voi avete scelto allora vi invito tutti quanti a scegliere tra la lettura numero 1 la faremo alla pallina bianca eccola qui pallina bianca la 1 e la 2 la pallina arancione eccola eccoci qua lettura 1 bianca lettura 2 pallina arancione poi daremo i numeri alla fine per il gioco mi raccomando con moderazione tranquilli perché comunque non abbiamo la certezza che niente esce perché se ce l'avevamo no quindi allora fate così prendiamolo come intrattenimento prendiamolo come gioco puntiamo qualcosina vediamo perché visto che è stato vinto insomma in diversi video ambi secchi ambate su ruota insomma proviamo è però mi raccomando sempre coscientemente allora partiamo subito vediamo un po allora facciamo un bel respiro sempre ci concentriamo la lettura numero 1 alla pallina bianca eccola qua mettiamo intanto una carta angelica vediamo per il lavoro e situazione economica di chi ha scelto la lettura 1 della pallina bianca situazione economica e il lavoro questa mi sento due quindi ne metto due una e due vediamo anche se c'è qualcosa qua coi prossimi eventi oracolo ricordo chi vuole acquistare i miei oracoli quelli creati da me legga la descrizione del video mi raccomando vediamo un po anche questa ne mettiamo due oggi tutti due abbiamo poi ci metto anche eventualmente altri altre carte tarocche eccetera poi facciamo un biscottino della fortuna vediamo e te lo leggo dopo alla fine il messaggio per te per la lettura 1 pallina bianca che messaggio c'è sulla fortuna eccolo lo mettiamo qui il nostro biscottino e poi preparo il mazzo di tarocchi per approfondirti un attimo intanto partiamo con queste vediamo subito con queste poi facciamo l'altra stesa vediamo intanto la 1 allora qua abbiamo ti dice apri il tuo cuore e la mente diciamo a quelli che sono intorno a te devi avere più fiducia e seguire proprio quello che ti diciamo che il tuo cuore ti consiglia va bene probabilmente abbiamo anche un qualcosa di chi può ovviamente di fare anche qualcosa di beneficenza quindi di prestare il proprio contributo o in denaro o fisicamente cioè andando ad aiutare non so da qualche parte così a livello caritatevole ci dice qua quindi molto bello abbiamo una carta d'acqua una carta che ci parla proprio di emotività di cuore va bene quindi benissimo complimenti a chi eventualmente fa questa cosa che possa essere un ripeto del denaro che magari dà in donazione a qualcuno qualcosa qualche struttura oppure proprio fisicamente in aiuto a qualcuno a chi ha più bisogno quindi qua però per il lavoro per quanto ti riguarda dovresti seguire ti dice qua il discorso di cuore cioè magari tu stai facendo un lavoro ma ti piacerebbe farne un altro perché senti che quel lavoro lì è la tua missione o ti senti veramente portato o portato a fare quell'altra cosa qua ti dice di avere fiducia in questa cosa che tu senti quindi provaci eventualmente fai una prova qua seguire il cuore andare verso ciò che ti dice la tua anima che senti quella vocina no che tante volte la trascuriamo e senti quella vocina che ti porta più verso un'altra direzione lavorativa provaci ti dice qua cominciamo ad avere coraggio a buttarci va bene vediamo la seconda carta cosa ti dice di nuovo lo stesso elemento acqua è allora vediamo un po un attimo ok allora qua dice una vita familiare sulla vita familiare i bisogni materiali tuoi bisogni emozionali sono abbastanza soddisfacenti dicono qua situazioni allora a livello di fidarsi un po' di più per quanto riguarda l'entourage familiare allora qua ci dice che se qualcuno ha in testa anche sapete quelle diciamo quei tipi di lavoro a conduzione familiare per esempio no un negozio una piccola aziendina un ufficio qualche studio dove c'è di mezzo magari perché tuo padre tua madre faceva quel lavoro lì allora tu hai continuato quel lavoro qua c'è qualcosa di questo tipo anche per tanti ci dicono quindi qua potresti andare verso quella direzione su un qualcosa che magari è stato iniziato non da tema da qualcun altro della tua famiglia e ti invita eventualmente a proseguire questo come opzione ovviamente come opzione perché ricordati che prima dovresti seguire ti dice qua l'altra carta comunque quello che tu vuoi fare va bene vediamo il prossimo eventi oracolo avrai le risposte riceverai risposte per qualcosa che hai chiesto o da una persona fisica o da un essere di luce quindi se ti stai domandando in questo momento cosa devo fare verso che cosa devo andare sempre sul lavoro intendo è questo solo lavoro qua se ti stai domandando qualcosa ti dice quale risposte arriveranno quindi abbi fede abbi fiducia la parola fede fiducia qua è uscita molto è perciò ricordati o ricevi questa risposta proprio da una persona magari mandata proprio dal cielo che ti dà proprio la risposta oppure un essere di luce un'intuizione un sogno premonitore qualcosa che tu devi captare però così al volo va bene vediamo il prossimo evento e la fine di un brutto periodo ok il peggio è passato lettura 1 pallina bianca quindi qua se abbiamo avuto dei problemi dei contrasti no delle contrarietà per quanto riguarda lavoro soldi qua siamo alla fine il brutto periodo ormai è passato anche il peggio è passato quindi cominciamo a rilassarci cominciamo a posizionare a focalizzarci l'energia la nostra energia su quello che vorremmo non su quello che non ci piace quello che non ci piace non va ricordato non va neanche detto va bene dobbiamo guardare quello che vogliamo non quello che non ci piace e fa molta differenza questa cosa qua è vediamo adesso un po cosa ci dicono tarocchi per quanto riguarda il lavoro cosa c'è in arrivo come andrà per la persona che ha scelto la pallina bianca la lettura 1 il lavoro vediamo un po se qualcuno ha qualche risposta per quanto riguarda nuovi contratti nuovi lavori vediamo per la lettura 1 il lavoro e situazione economica il lavoro e situazione economica qui ci sono anche delle scelte da fare di nuovo me lo dicono cose che vanno avanti anche da molto tempo eccole le notizie in arrivo subito qui c'è gente anche brava è gente che sa fare molto bene il suo lavoro assolutamente qua c'è qualcosa che da tempo vi fa soffrire sembrerebbe che ci state male per un qualcosa voi soffrite per un qualcosa credo anche da tempo perché abbiamo un elemento cavaliere di denari che è un elemento abbastanza lento e che ci parla di cose che vanno un po rilento quindi per alcuni ovviamente ricordo che è un collettivo generale però magari tanti è da parecchio tempo che stanno aspettando delle risposte dei cambiamenti qualcosa che deve cambiare io notizie le vedo è attenzione voi però anche a come rispondete anche a come vi approcciate cercate di stare ad ascoltare anche ci dicono qua attenzione un'altra cosa qui è probabile che qualcuno vi possa diciamo fare una proposta venirvi a dire qualcosa ma non è in realtà così quindi approfondite perché se no poi ci rimanete male va bene poi vi pentite di questa cosa c'è qualcuno che potrebbe provare a farvi un'offerta molto allettante sembrerebbe qua ma in realtà non è per niente così approfondisci approfondisci perché qua non mi sembra ecco qua però alla fine insomma del denaro in arrivo c'è perché ci abbiamo un bel 10 di denari ci abbiamo proprio la cassaforte quindi qua comunque un'entrata c'è per chi sta aspettando un nuovo contratto qua un inizio di un nuovo lavoro in un paio di mesi io qua non lo vedo un nuovo proprio un nuovo inizio stiamo andando bene nel senso cerca ti ripeto di ponderare bene tutto quello che ti dicono controlla tutto quello che ti dicono notizie ce l'hai anche velocemente perché c'è un otto di bastoni notizia molto veloce l'elemento questo qua è molto svelto va bene quindi a pre a breve proprio presto riceverai delle notizie però attenzione attenzione perché o su queste notizie che avrai a breve o su altre notizie che ti arriveranno su qualcosa di queste cose c'è poca chiarezza quindi ti dicono le carte attenzione vai ad approfondire quello che ti viene detto un nuovo lavoro l'inizio di un nuovo lavoro non c'è c'è più che altro una sistemazione delle scelte da fare sembrerebbe qua come dire un qualcosa dove ti devi ancora stabilizzare sembrerebbe quindi per il momento no però c'è un 10 di denari che ci dice entrata di denaro quindi questo vale per quelli ad ascolto che o stanno aspettando un risarcimento stanno aspettando qualcosa di vecchio di un'altra azienda in cui hanno lavorato queste cose che devono arrivare che magari uno dice non so da quanto tempo sto aspettando questa cosa di quell'azienda là va bene e magari non ci spera più ci sono stati degli intoppi dei blocchi qua qualcosa arriva va bene perché i 10 di denari sono sempre dei soldi e anche abbastanza soldi non è una carta piccolina eh abbiamo proprio la cassaforte guardate qua quanti bei denari in questa cassa che ci sono per te lettura 1 però ti permane sempre un pochino di malinconia un pochino di tristezza forse qualcuno all'ascolto non so ma mi dà l'impressione che si sia un po pentito di qualcosa di qualche scelta forse del passato di qualche errore di qualche sbaglio forse crede magari era meglio che facevo questo invece che questo magari dovevo dar retta a questa persona invece non gli ho dato retta non so è come se qualcuno avesse un po' un rammarico ovviamente non tutti eh perché è per tutti questo questo video però qualcosa di rammarico lo vedo qualcosa di tristezza di mancanza forse è stato forse è cambiato lavoro ma non ti sei trovato ho trovato bene pensavi che era meglio prima che hai sbagliato c'è questo tipo di malinconia questo tipo di pensiero in alcuni all'ascolto va bene lettura 1 per il momento nuovi lavori c'è ancora un po' da aspettare qua sembrerebbe allora andiamo avanti adesso andiamo avanti con i numeri ricordo questi numeri li puoi giocare anche se non hai scelto questa stesa prendiamo il primo in alto della prima carta la seconda carta lo prendiamo in basso sempre se ci sono è altrimenti se in basso non ci sono in alto la giriamo vediamo ne prendiamo due due numeri due numeri che possono portare fortuna alla lettura numero uno che ha scelto la pallina bianca ma anche chi non l'ha scelta chi si trova ora ad ascoltare qua poi vediamo il biscottino della fortuna è allora il primo in alto primo in alto e la ruota sì ce l'abbiamo abbiamo il 28 su genova 28 su genova va bene anche da solo è in basso eccolo qui c'era il 61 su bari va bene questi sono i numeri fortunati per la lettura numero uno ripeto 28 sulla ruota di genova anche da solo 61 sulla ruota di bari anche da solo oppure 28 e 61 su genova 28 e 61 su bari va bene anche tutte giocate perché sono usciti anche fuori ruota molto spesso ma l'ambo è stato fatto però quindi allora come sistemarli li vedete voi altro indizio se sono numeri per esempio che vi ricordano qualcosa di qualcuno o di voi di vostro figlio di vostra sorella insomma di qualcuno e vi sembra fortunato per esempio questo mi sa anche di data di nascita per esempio 28 3 per dire 61 che è la data tua o è la data di qualcuno a te caro metticelo quel numero va bene perché è stato fatto anche chi ha fatto da sola o da solo ed ha vinto è quindi se senti la sensazione che questi numeri no ti sanno di qualcosa senti che c'è qualcosa metticelo tu un altro numero il terzo numero vedi tu questo 28 genova 61 bari va bene e anche su tutte questi sono i numeri li lascio qui scriveteli su un foglietto vedete voi come volete fare vediamo leggiamo per te il biscottino della fortuna che cosa ti dice vediamo comunicazione allora qui dice una diciamo un riunirsi potrebbe portare dell'amore o un qualcosa di riavvicinamento sia tra amici ma anche a livello amoroso qui sembrerebbe che c'è un incontro molto fortunato ok un qualcosa anche di vincita sembrerebbe qua lucky ok significa fortuna in inglese win è vincere ok è la vittoria vinciti qualcosa quindi molto bene qua va bene quindi qua ti viene proprio la comunicazione che non sia proprio questo video cioè a livello di canale comunicativo e poi proprio qualcosa a livello proprio personale che ti viene sia dalle amicizie dice qua ma anche qualcosa a livello di amore perciò quello che ci interessa molto poi ognuno vede la sua situazione ovviamente potrebbe essere anche proprio il discorso della vittoria va bene di qualcosa di soldi perché sui tarocchi ce l'avevi avevi qualcosa che quel 10 di denari non sia proprio la vincita staremo a vedere ricordo giocateli con costanza va bene perché a volte sono usciti dopo due tre anche quattro volte questo poi dipende da voi c'è chi ha continuato a giocarli anche per tempo per molto tempo questo dipende tutto da voi io lancio solo l'input poi il come chi è che poi sbaglia chi è che scrive non l'ho giocato che qua non è non dipende da me io devo dare solo l'informazione come poi usate queste informazioni non è più responsabilità mia va bene quindi questo che sia sempre molto chiaro lettura 1 ci riaggiorniamo prossimamente su questo canale sapete che tanto ogni mese faccio sempre questi video quindi intanto ti ringrazio di essere stato o stato qui sul mio canale lasciami pure un like al video se ti è piaciuto fai l'iscrizione a questo canale e io proseguo eccoci qua con chi ha scelto la lettura 2 la pallina arancione chi ha scelto la pallina arancione ricordo che è un collettivo è per tante energie all'ascolto prendi solo quello che ti risuona partiamo oggi mi arriva il numero 2 quindi facciamo due carte due carte di queste poi ti metto il della fortuna anche a te con due numeri per te ricordo anche a te lettura 2 se vuoi giocare anche i numeri della lettura 1 giocali ma solo i numeri è per quanto riguarda lettura di fortuna lavoro e soldi fai riferimento a quella che ti ha scelto tu è lettura 2 lavoro e soldi lavoro e soldi poi andiamo con i prossimi eventi oracolo leggete la descrizione a chi piacciono le carte che ho creato io è per acquistarle eventualmente leggete sotto vediamo un po per la lettura 2 vediamo cosa ti esce sul lavoro e fortuna allora intanto come ho fatto per l'altra stesa partiamo con queste due ti metto il biscottino della fortuna che te lo leggo dopo dopo di aver dato i numeri per la lettura numero 2 eccolo partiamo poi ti faccio i tarocchi allora la prima che cosa dice una celebrazione qualcuno dice pure che potrebbe arrivare al coronamento anche di uno studio quindi di una laurea di un corso un perfezionamento che ha fatto qualcuno potrebbe anche arrivare un matrimonio oppure ce l'ha in famiglia o qualcuno potrebbe avere anche un certo tipo di annuncio di nascita magari intorno a te intorno a te qui c'è scritto però che c'è bisogno di più divertimento quindi qua forse il lavoro diciamo il settore stress il fattore stress scusate che vi provoca il discorso lavoro quindi magari l'insoddisfazione che si prova eccetera ci lugubra un po qui magari qualcuno l'ascolta è veramente molto triste per quanto riguarda questo discorso lavorativo magari va meglio non certamente per tutti ma per alcuni va meglio discorso forse familiare amore amoroso diciamo e altre cose si devono ancora manifestare sul lavoro perché così sembrerebbe che c'è bisogno di più divertimento la carta ti dice proprio divertiti un po di più alleggerisciti un po di più ti dice va bene vediamo l'altra cos'è che ci viene vittoria le buone notizie sono lungo la strada qua c'è anche un riconoscimento pubblico o un premio che ti può arrivare quindi molto bene magari questo stress poter magari perché stai aspettando veramente questo riconoscimento pubblico questo annuncio stai aspettando una risposta importante qualcosa perché per alcuni ci sarà proprio a livello pubblico quindi vi magari vi chiameranno per andarvi a presentare da qualche parte dove c'è anche un certo pubblico qualcuno no qualcosa del genere c'è anche qua e poi ti dice che ce l'hai fatta perché le buone notizie sono lungo la strada quindi se ancora non le vedi se ancora non le hai viste sappi che ci sono buonissime notizie in arrivo va bene vediamo adesso gli eventi vediamo il primo qual è qua abbiamo anche dei sogni premonitori quindi magari qualcuno già se lo aspetta perché la sognate queste cose vedete sincronicità perfetta c'è qua il contatto con l'altra dimensione quindi qua ce l'hai ce l'hai dei messaggi che ti arrivano o anche attraverso i sogni o anche da sveglia o da sveglio è tante volte si hanno questi tipi di percezioni va bene quindi vediamo magari veramente riesce a sapere prima le cose ecco cambio di lavoro nuovo lavoro o cambio di mansione buonissimo per chi stava aspettando proprio questo perché magari stai aspettando questo cambio che non sia relativo anche a questa carta qua cioè che le buone notizie sono lungo la strada ti dice e infatti arriverai a questo cambio di lavoro oppure sei nello stesso posto di lavoro ma ti cambiano la posizione va bene quindi magari da quell'ufficio là sei spostata o spostato all'altro ufficio di là oppure hai un negozio magari e ti cambia che ne so passi da faccio per dire commessa di serie b a commessa di serie a faccio per dire perdonatemi se dico castroneria ma non lo so nel senso che aumenti va bene aumenti la tua posizione attuale di lavoro va bene quindi vai a crescere quindi benissimo per te è buona notizia lungo la strada abbiamo anche le altre dimensioni che ci si mettono qua a darci dei messaggi quindi benissimo allora vediamo ancora qualche altra notizia su soldi e lavoro vediamo se ci parlano anche di soldi qua e vediamo perché di qua più che altro su queste carte di lavoro si parla vediamo un po la lettura 2 la pallina arancione per lavoro e soldi lavoro e soldi e ancora siamo un po bloccati ancora un po però eccola qua la notizia eccola qua che si aspettava da molto vedo anche non avere timore non stare così a non dormirci neanche la notte da quello che vedo qua da quanto aspetti questa cosa ah bene qualcuno col 3 di denari va anche a fare un qualcosa di contratto a livello tipo di società eccolo qua confermato dal 2 di coppe assolutamente sì allora se qua hai un diciamo in mente di metterti con qualcuno in una società aprite un negozio in due aprite un'aziendina in due fate un ufficio non so un qualcosa in qualche ufficio siete due soci o tre soci quello che è va benissimo qua ci dicono ottima idea c'è anche il sole che ce lo conferma quindi anche a livello di amicizie magari hai quell'amica o quell'amico e volevate fare questo progetto insieme qualcosa del genere ma anche in famiglia e il sole anche la famiglia comunque l'entourage attorno a te con i familiari o con gli amici va bene attenzione a persone col 5 di spade che magari vogliono un po primeggiare piuttosto mettersi un po in prima linea quindi questo ci sarebbe da riportarle un po sul piano terrestre se magari sono un po montati come si dice perché ce ne sono tanti di riportarli un po a terra e di invitarli a lavorare abbastanza ovviamente non è per tutti all'ascolto però di riportarli a lavorare abbastanza terra terra ok che non si montassero molto la testa se per caso hanno in mente di lavorare a scapito di qualcun altro perché il 5 di spade si raccoglie tutte le spade lui quell'altro li lascia senza capiamoci il senso di quello che voglio dire quindi se c'è qualche personaggio del genere cominciamo subito a metterlo a posto suo va bene questo è quello che ti voglio dire ognuno il suo posto comportamenti devono essere sempre corretti se per caso è questi tipi di persone vicino però ottimo questa cosa per chi sta tentando una società per chi non è da solo va bene però va bene anche dati gli oracoli anche per chi sta aspettando ed è un dipendente quindi nessuna società nessuna azienda ma sta aspettando una risposta per un nuovo lavoro e anche per un cambio di mansione notizie ne arrivo prestissimo lettura 2 c'è l'asso di bastoni subito come prima carta quindi velocità va bene velocità ci sono queste cose vedo molti molto preoccupati quello sì con un appeso 9 di spade vicino assolutamente sì tanto tanto preoccupati però insomma cominciamo ad alleviare questa cosa va bene comincia piano 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 a stare un pochino più tranquillo tranquillo perché qua ci abbiamo delle notizie molto presto anche belle va bene quindi non c'è motivo insomma di preoccupazioni troppo pesanti che non ti fanno dormire la notte queste cose qua e mi raccomando allora adesso prendiamo due numeri per te e poi facciamo il biscottino della fortuna ricordo che se anche questa non è la scelta la scelta diciamo tua magari hai scelto l'altra pallina puoi giocarli lo stesso questi numeri mi raccomando con moderazione prendiamo il primo in alto e poi la seconda carta lo prendiamo in basso sempre che ci sono altrimenti la capovolgiamo vediamo qual è il primo che ci viene 47 su venezia eccolo qui è il primo e abbiamo anche un 9 di denari questa carta è molto bene secondo in basso in basso c'è il 56 su firenze eccoli qua allora puoi giocare il 47 da solo a venezia punto il 56 firenze da solo punto oppure 47 56 a venezia 47 56 a firenze o su tutte mi raccomando il gioco su tutte perché sono usciti molto spesso va bene quindi questi sono i numeri giocare con moderazione e giocali per diverse puntate non una volta e basta diverse volte perché sono usciti anche tante volte anche molto diciamo in avanti anche la terza al terzo colpo al quarto colpo tante volte però sono usciti va bene quindi fiducia provate non investite troppo denaro sul gioco d'azzardo mi raccomando questa deve essere la regola segnati questi numeri ripeto 47 a venezia 56 a firenze il biscottino che ti dice della fortuna pianifica ti dice è ora che tu cominci a buttare giù le basi veramente per il tuo futuro ok qui ah che bello qui ci sono anche delle cose per quanto riguarda discorsi di soldi diciamo ok finanziarie va bene quindi qua abbiamo qualcosa in arrivo però devi pianificare bene il discorso strutturare bene anche se devi chiedere dei soldi per esempio un finanziamento un mutuo qualcosa comincia a pensarci ci dice qua va bene è il tempo di pianificare quindi se ancora stavi titubante ma è probabile perché avevamo l'appeso nei tarocchi per te quindi è ora di cominciare a programmare fatti proprio uno schemino prenditi un blocco note su un'agendina qualcosa comincia qua azione ci vuole azione lettura 2 comincia a capire cos'è che devi fare per raggiungere il tuo obiettivo chiedere un prestito chiamare quest'altro fare il progetto con quest'altro va bene quindi mi raccomando questo è richiesto una buona pianificazione per te ti dice il biscottino della fortuna lettura 2 grazie mille lasciami un like al video se ti è piaciuto iscriviti al canale ricordo a tutti giocate con moderazione sempre con moderazione fatemi sapere poi nei commenti cosa vi succede insomma con questi numeri come va il lavoro eccetera tranquilli perché me lo chiedete in tantissimi lo faccio ogni mese questo video va bene quindi per il momento grazie a tutti vi aspetto presto con un nuovo video qui su quinta dimensione lettura e vi mando un grandissimo abbraccio ciao a tutti e grazie